Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. In questo video voglio fare un po' di chiarezza sulla questione Stadi, soprattutto sul mio pensiero e anche su alcuni aspetti della comunicazione. Io su questo canale mi occupo di notizie che riguardano Milano, gli sviluppi futuri, Milano e la città metropolitana e lo faccio ovviamente riportando notizie, quelle che possono essere informazioni da fonti dirette, magari non però pubbliche, e poi anche dando delle mie opinioni in base alle notizie che ho a disposizione e quindi magari formulando delle ipotesi. Poi ci sono invece anche i gusti personali su determinate situazioni che quelli però riguardano appunto un'opinione non basata su dati ma su appunto un gusto, un piacere per un particolare aspetto di un progetto o qualsiasi altra situazione. Voglio parlare quindi, fare chiarezza sulla questione Stadi perché in tutti questi mesi in cui ne ho parlato, ho ricevuto nei commenti diverse obiezioni, diverse critiche su molti aspetti da parte di interisti, milanisti, di chi ama Milano o chi ha cuore Milano o comunque chi vive a Milano e quindi vorrei chiarire una volta per tutte determinati aspetti. Allora, per quanto riguarda l'aspetto comunicativo ci sono le notizie come quella che ho riportato nel mio ultimo video, poi ci sono le opinioni che uno produce avendo le notizie a disposizione, poi ci sono anche delle ipotesi in campo per quanto riguarda i progetti, quindi le varie alternative progettuali, poi ci sono le opinioni dei giornalisti tifosi e infine ci sono appunto come dicevo prima i gusti personali su un determinato aspetto. Ritorniamo sulla questione Stadi. Io non ho dato mai nessuna preferenza a un progetto in particolare, ho sempre detto che basandomi su dati oggettivi al momento il progetto di ristrutturazione di San Siro è al primo posto per i motivi che ho elencato in alcuni video fa, ovvero che il costo è inferiore, i tempi sarebbero forse un po' ridotti e altri aspetti che ho già elencato che non sto a ripetere. Quindi non si tratta di una preferenza ma di un dato oggettivo. L'aspetto forse più importante è che lo Stadi esiste già rispetto a qualsiasi altro progetto di stadio che al momento esiste solo sulla carta. Per quanto riguarda la notizia di ieri, ho riportato che il comunicato del Comune di Milano che poi ha riportato tutti, il fatto che Milan e Inter stanno facendo delle analisi tecniche finanziarie sulla possibilità di acquisire lo stadio, rilevare i diritti di superficie e anche le aree circostanti per eventualmente prenderselo in carico e quindi ristrutturarlo. Molti di voi potranno dirvi, sì però la parte quella che in Milano e Inter hanno detto che abbiamo dei progetti, che però i progetti che sono in corso, i nuovi stadi non vengono messi da parte, quella è arrivata dopo, però non cambia il discorso perché quelli si sa che hanno dei progetti in corso. In un video vi ho parlato dell'avvio della procedura di VAS per quanto riguarda il progetto dello stadio del Milan-San Donato, quindi mi pare logico che i progetti siano in corso, chi più avanti e chi più indietro, però quello si sa. Il fatto di dire che a settembre, come qualcuno mi ha anche segnalato di qualche giornalista, tifoso milanista, che ha specificato che a settembre ci sarà solo un incontro così interlocutorio, una riunione così giusta, una riunione ma niente di che, è diciamo che è poco plausibile perché se stanno analizzando i progetti dal punto di vista finanziario e tecnico, evidentemente gli interessa qualcosa di più. Facciamo un esempio, se dovessimo acquistare un'abitazione in cui viviamo, noi siamo in affitto da tanti anni con un conquilino collega di lavoro, visto che per fare un paragone tra Inter e Milan, e ci siamo stufati e mi hanno deciso che vogliamo buttare giù l'appartamento e rifarlo nuovo, quello che volevano fare Inter e Milan. Poi è arrivato il vincolo e dopo anni di elaborazione di progetto con tutto l'iter, alla fine è arrivato il vincolo che ha di fatto cassato questa idea, pertanto San Siro rimane in piedi, quindi l'idea di rifare la casa e di farne un'altra non si può. Quindi uno e due inquilini ha deciso bene, guarda io ho voglia di farmi una casa, ho trovato un terreno o poco, mi faccio la casa lì. Anche l'altro inquilino a un certo punto dice guarda anch'io, ho iniziato a guardarmi e mi farò una casa da un'altra parte. Nel frattempo il proprietario dell'appartamento dice guardate che se volete ve lo posso vendere e potete anche ristrutturarlo in un qualche modo con costi molto inferiori rispetto alla casa che vi dovesse costruire fuori. A quel punto viene mostrato il progetto e il progetto risulta interessante. Quello che hanno fatto Inter e Milan, ovvero hanno dichiarato sin da subito che il progetto ne interessava altrimenti non avrebbero fatto partire tutto questo lavoro, avrebbero detto subito al Comune di Milano, guarda non ci interessa il progetto di WeBuild, qualsiasi che sia non vogliamo vederlo, non ci interessa. Hanno fatto un po' di incontri, poi è stato allustato il progetto che hanno in mano, che stanno visionando e poi visto che un minimo di interesse c'è hanno detto ci prendiamo qualche mese, ma notiamo tutti gli aspetti tecnici e finanziari, capiamo se ci conviene acquistarlo, se ci conviene avere i diritti di superficie e se conviene nell'interesse a tutto il progetto. La stessa situazione, riportando l'esempio che sto facendo, mi viene proposto la cosa, un piano di ristrutturazione e dico guarda, ma forse mi interessa, faccio un po' di conti, capisco se si può avvicinare alle mie esigenze e poi ti faccio sapere, così ti dico se mi va bene questo progetto oppure mi farò la casa altrove. È quello che faranno Inter e Milano, ovvero a settembre, salvo stravolgimenti, si siederanno a Palazzo Marino col sindaco Sala e gli diranno guarda, il progetto di ristrutturazione non mi interessa, mi vado a fare lo stadio fuori. Oppure dicono una delle due, dicono guarda, a me interessa, quindi intendo proseguire con la ristrutturazione. Quindi non sarà solo un incontro in cui una riunione così, perché altrimenti se non c'era un minimo di interesse avrebbero stoppato tutto. Da lì a dire che però vogliono puntare su San Siro è un altro discorso. Se nel titolo io ho scritto Inter e Milano vogliono comprare San Siro, perché se tu dimostri l'interesse verso l'acquisto, cosa vuol dire? Che tu vuoi comprare San Siro. Poi, tu vuoi comprare l'appartamento da proprietario, però lo ritieni a un prezzo troppo eccessivo. Oppure ritieni che ristrutturarlo poi alla fine non produca un grande risultato. E alla fine dici guarda, io volevo acquistarlo, però alla fine per come viene fuori non mi piace più di tanto, preferisco fare altro. È quello che faranno in Termina, quindi sono interessati, vogliono comprarlo. Però a determinate condizioni e se poi gli piacerà. Quindi questo è il quadro e non c'è nessuna... si tratta di unire puntini, dati oggettivi e fare il quadro. Questa è la situazione attuale. E questo voglio che sia chiaro perché non è mia intenzione dare, diciamo, valutazioni così campate per aria, ma basate su dati oggettivi senza faziosità da parte di Inter, da chi è invece interista o milanista che non mi interessa, non mi interessa farlo su questo canale. Per quanto riguarda poi gli aspetti un po' nostalgici che tanti magari hanno, forse più da parte dell'Inter che del Milan, su San Siro. Io vorrei ricordare che prima di giocare a San Siro, Inter e Milan insieme, ne sono passati dei anni perché la prima partita è stato il primo campionato nel 1947. Hanno giocato insieme qualche anno durante il periodo della seconda guerra mondiale all'arena dove giocava l'Inter e dove aveva giocato addirittura il Milan che ha cambiato penso una decina tra stadi e campi, l'Inter un po' di meno dalla sua fondazione. Quindi hanno giocato dal 1947 fino adesso insieme. Per una buona parte della loro storia ognuno ha giocato per conto suo. Quindi non sarebbe neanche così una cosa straordinaria se poi ognuno avesse il suo stadio, se una rimanesse a San Siro o l'altra andasse fuori da Milano. Anche se è pur vero che Inter e Milan, due squadre così importanti che giocano in uno stadio solo, al mondo, gli esempi sono pochi. Poi veniamo invece al discorso economico. Anche qui è meglio fare chiarezza. Uno stadio nuovo costa di circa 1,2 miliardi. Quello che avevano pensato Inter e Milan di fare insieme al posto del Meazza sarebbe costato 1,3. Tra lo stadio e tutto. Quindi la spesa effettuata per risultare lo stadio sarebbe notevolmente inferiore perché la spesa si aggira intorno a 350 milioni di euro da dividere in due. Invece la spesa di uno stadio nuovo sarebbe un miliardo e due in carico interamente alle società. Sempre dal punto di vista economico. Inter e Milan non c'è differenza. Al netto dei debiti dell'Inter o la situazione migliore del Milan, entrambe farebbero ricorso a finanziamenti, project financing. Il Milan solo in parte ha capitale, ma tra l'altro sempre in prestito da parte di Redbird. Quindi se va avanti un progetto va avanti anche l'altro. Nel senso che se non ci sono ostacoli burocratici tra San Donato e Rozzano a livello economico non cambia niente per le due squadre. Per quanto riguarda invece le mie critiche sul progetto di San Donato, le faccio perché San Donato è un'area scartata dall'Inter in quanto stretta, mal connessa rispetto ad altre e molto meglio sarebbe stata. Quindi per chi dice che non voglio che Milano si sviluppi nel futuro, che abbia stadi fuori dal comune, comunque in un'area più grande come succede ad esempio Londra. Non è così perché secondo me il Milan poteva fare un progetto migliore a Sesto, nell'area di Milano Sesto, perché lì non ci sarebbero stati problemi per quanto riguarda aree verdi perché lì era un'area ex industriale, acciaierie Falc, da rigenerare, bonificare, quindi lì non c'era il problema di togliere verde che non c'era. Soprattutto poi super connessa con metro, ferrovie, snodi, autostradali, tangenziali. Quindi sarebbe stata forse la soluzione migliore per il Milan. Il problema lì era soprattutto i costi. L'acquisto dei terreni è molto più alto rispetto a San Donato, questi sono i motivi della scelta. Poi ovviamente c'erano anche le bonifiche che anche ultimamente sono aumentate nella realizzazione dell'area di Milano Sesto. Il costo delle bonifiche è un altro dei problemi tra i tanti che aveva bloccato anche il progetto di costruzione di uno stadio di San Siro alla zona Portello quando c'era Berlusconi, Berlusconi o meglio, la figlia di Berlusconi, che era a capo del progetto sportivo e dello stadio. Quindi quello lì era un altro dei motivi. Poi veniamo invece ai gusti personali. A me è sempre piaciuto San Siro, continua a piacermi, è comunque uno dei monumenti di Milano riconosciuto a tutto il mondo, tra i primi monumenti che vengono citati da chi viene all'estero. E quindi quando si è paventata l'idea di abbatterlo sinceramente mi è dispiaciuto perché una struttura così iconica sarebbe stato un vero peccato abbatterlo. Poi quando le squadre hanno detto guardate che non c'è possibilità di strutturare, l'unica soluzione per poter andare avanti, per poter generare utili e avere uno stadio nuovo e quindi abbatterlo e farlo un altro, ho detto vabbè, ce ne faremo una ragione, rimarrà nel ricordo, magari si può tenere qualche vestigia che c'era nell'ipotesi iniziale e il progetto della cattedrale effettivamente sarebbe stato un'ottima soluzione, per quanto il dispiacere per l'abbattimento del Meaz sarebbe rimasto. Poi anche lì si è stoppato tutto e quindi al momento, anzi al momento, quindi San Siro rimarrà in piedi, diventerà uno stadio per show, concerti, può essere. A Las Vegas hanno creato Sphere che è un centro, un polo per concerti, un palazzetto per concerti futuristico che si vede a distanza di chilometri, quindi magari anche San Siro potrebbe diventare una sorta di attrazione anche da quel punto di vista lì, quindi ha modernato e adattato per quell'uso. E quindi Inter e Milan poi, comunque nel caso, si faranno il loro stadio fuori da Milano, di cui ancora non ci sono progetti su effettivamente su poi come sarà, quindi anche lì poi si valuterà al momento la qualità, la bellezza dell'impianto. Quindi queste sono le opinioni che ho riportato, i miei gusti puramente personali per quanto riguarda uno stadio o l'altro, ma non c'è nessuna preferenza. Se in Milan si farà un bello stadio fuori da Milano, meglio per il Milan e anche per la città metropolitana, il comune di San Donato, lo stesso per Rozzano, una struttura che arricchisce, sicuramente valutati tutti gli aspetti, tutte le criticità che hanno tutti i due progetti, dal punto di vista dei trasporti, dell'ambiente e non solo. Quindi spero di essere stato chiaro, di aver spiegato le motivazioni e anche come portato avanti in tutti questi mesi le notizie su lo stadio di San Siro, di San Donato, di Rozzano e quindi che per i prossimi video possa essere più facile capire anche il mio pensiero. Come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like, di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.